Radio 40 Web, che piacere trovarsi insieme. Attenzione! Treno in transito al binario 3, allontanarsi dalla linea gialla. Attenzione! Allontanarsi dalla linea gialla. It's around 4, 3, she's building up and you can see the fire, coming off, we have commit, we have liftoff, liftoff at 7.51 am Eastern Standard Time. Sono le 7.51, ora di oggi. La pollo si sta staccando dalla torre di Lancia. Sta prendendo buona. È molto bello da vedere. C'è una grande fiamma luminosa, pesa a 4.000 tonnellate. Sampire flame, 7.5 milioni di pound, they're on their way! Attenzione! Treno in transito al binario 3, allontanarsi dalla linea gialla. Attenzione! Treno in transito al binario 3, allontanarsi dalla linea gialla. Grazie a tutti. 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 a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. a tutti. a tutti. a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. a tutti.